Il premier del primo governo populista dell'Europa occidentale Giuseppe Conte nel suo intervento al Parlamento Europeo Strasburgo immagina un'Europa forte, più che mai vicina ai suoi popoli, pronta ad abbandonare la pratica di una governance soprattutto economica, come è stato negli ultimi anni, dice Conte, a favore di una più politica, un'Europa spiega che sappia parlare al mondo. In questo contesto nessuno Stato membro può da solo giocare un ruolo significativo. Di qui l'auspicio che una voce europea unita trovi spazio anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nelle parole del Presidente del Consiglio centrale il tema della gestione della crisi migratoria con l'invito a mettere in pratica quanto stabilito dal Consiglio europeo di giugno. Un'Europa, dice Conte, che se vuole farsi pomotrice di nuovi valori deve cambiare il suo approccio verso l'Africa investendo sulla collaborazione per e sul continente. E' da rappresentante del governo che più di tutti ha alzato la voce nel Mediterraneo, fa pello a ciò che resta della solidarietà europea per il superamento dei nazionalismi. Smettiamo di rimanere divisi, cedendo a logiche nazionaliste o regionaliste e cerchiamo di mettere in pratica un'autentica solidarietà, così da ripristinare un'Europa rispettosa delle vite umane e della propria sicurezza. Infine il passaggio sulla crisi con la Francia ed i siti anche sul piano bilaterale, dice, rappresentano più l'effetto che la causa di un'incapacità dell'Europa di proporre soluzioni e in un'intervista successiva eurofonica rassicura un singolo episodio, non cambia i solidi rapporti tra due paesi. E' sempre più incolmabile la distanza che non è solo geografica.